Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming, in questo video vi spiegherò come arricchirsi in Animal Crossing New Horizon con la vendita delle rape. Ogni domenica troverete questo buffo personaggio ad attendervi, dopo che avete, diciamo, giocato per un bel po' di tempo, dove potete acquistare delle rape da rivendere poi a Mirko e Marco. Ecco, io ho 31.960 stelline a disposizione, quindi compro tutte le rape che riesco a guadagnare con questo denaro, quindi 340 rape. Ovviamente non sono soldi buttati perché guadagnate molto dalla vendita di tutte queste rape. Quindi tenete presente che il guadagno è di, o meglio, scusate, io ho speso quasi 32.000 stelline per le rape. Adesso vado a rivenderle a Mirko e Marco, quindi vado al negozio di Mirko e Marco e le rivendo ad un prezzo ovviamente maggiorato. Perché le rape hanno ovviamente un costo differente a seconda poi del periodo. Avete una settimana di tempo per rivendere le rape. Se non le vendete, diciamo, sprecate il vostro denaro. Scusate un attimo, ragazzi. Prima di vendere le rape voglio prendere questo regalino, che a volte compare random. Quindi potrebbe contenere qualsiasi cosa e lo scopriremo in diretta. Quindi selezioniamo la fionda e vediamo che cosa c'è nel regalino. Allora, ecco qua, apriamo, vediamo cosa c'è. Macchina per il popcorn, ottimo, la utilizzerò in casa. Ora vado al negozio di Mirko e Marco e vendo le rape. Ovviamente dentro, non fuori. Potete ovviamente chiedere il prezzo delle rape direttamente all'oro. Quindi una volta che parlate con loro, potete chiedere il prezzo delle rape. E loro vi diranno, appunto, la domenica la compravendita delle rape sospesa torna domani. Ovviamente non potete comprare e vendere le rape nello stesso giorno, perché la domenica appunto il venditore delle rape è presente. Ma se durante la settimana vendete le rape, guadagnate molti soldi, molte stelline. Quindi ogni giorno magari potete tornare al negozio, chiedere quanto costano le rape, o meglio, quant'è il guadagno. E in base al giorno cambia. E quanto il guadagno è maggiore, allora vendete tutto e fate un bel malloppo. Ricordatevi che il venditore delle rape è disponibile solo la domenica. Quindi da lunedì a sabato potete vendere le rape. Ovviamente non aspettate tanto tempo, perché più aspettate, più le rape scendono di valore e marciscono. E quindi buttate le vostre stelline. Quindi ogni giorno controllate e quando, diciamo, le rape valgono tanto, vendete tutto. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.